l'oggete di ospia toscana marima maiale appunto freddi mercoli signor freddi salve salva a tutti sono freddi mercoli dei win si questo lo sanno tutti va beh no lo dio magari alcuno ma riconosciuto capito non so insomma dov'è nato lei allora io sono nato allora se si deve fare il cazzo sua è qui a fare un'intervista si si ora staccarmo e staccarmi allora io quando sono qui per dire c'è buona discussione con qui con Brian May senta ma il concerto più bello che lei si ricorda di qui in quale sicuramente Wembley 86 no ti dirò il mio preferito gli era Bacchereto 84 oso Bacchereto gli sta il concerto più bello alla saga della ciliegia Bacchereto oso che serata un seratone mi ricordo ancora quando fece al pianoforte quella lì bella The Queen che fa mamà uu la cespecica e nari di do tra tattetto tarara garirò c'è il pubblico oso Invisibileo e la sua anzone preferita ce n'è tante a me mi garba I want you be free I want you be free adesso le facciamo le ultime due domande e poi la lasciamo andare qual è il suo piatto preferito e per quale squadra fa il tifo appunto freddie mercury allora senti la tripa tutta la mi garba tutta io sono un grande mangiatore per dir di panino quella predotto la predotto salsa verde piccante tutta la vita per dire lascia un like alla pagina